L'argomento della nostra conversazione verterà sul finale del romanzo di John Steinbeck, Furore. Nel leggere e commentare queste pagine ci serviremo dell'aiuto di Luca, che ci sarà utile soprattutto per la sua conoscenza della lingua inglese. Luca, infatti, da tempo abita a New York. Sì, Bruno, ciao e intervengo volentieri oggi. Furore è un romanzo che lessi da ragazzo e mi colpì molto, soprattutto lo straordinario finale di cui parleremo oggi. Sì, quelle pagine sono davvero belle e spero che chi ci ascolterà e ci vedrà condividerà questa nostra opinione. Io penso che queste pagine, a rileggerle, possono farci del bene, soprattutto nella condizione, nella situazione in cui ci troviamo. Io qui a Roma e tu a New York c'è di mezzo l'oceano, però in questo momento, credo, siamo accomunati da una identica situazione esistenziale. questa situazione la conosciamo tutti, no? È questo improvviso cambiamento, radicale cambiamento del nostro modo di vivere, delle nostre abitudini, di tutte le nostre coordinate spaziali e temporali. E questo ci provoca naturalmente, pensando soprattutto al futuro, tutta una serie di preoccupazioni, direi addirittura di angosce. E quindi io penso che questa lettura che faremo ci può dare coraggio. Ci può dare coraggio anche perché noi dobbiamo avere fiducia, no? Credo, no? Anche in questa situazione così difficile. E la fiducia la dobbiamo riporre in che cosa? Nella scienza, prima di tutto. Nella medicina, naturalmente. E credo poi anche nelle grandi decisioni politiche, no? Che devono darti una mano. No, che dici? Io lascerei un po' perdere la politica, che è un argomento abbastanza difficile da esprimere in questi giorni. Però io penso che invece dovremmo parlare più delle cose che possiamo fare a livello individuale, no? Perché penso che ognuno di noi può fare qualcosa per impedire che la situazione degeneri. Il rischio, secondo me, è il rischio che stiamo vivendo un po' tutti quanti. L'isolamento in cui siamo costretti, la necessità del distanziamento sociale, questo non poter vederci completamente in viso, perché i nostri visi sono coperti da queste benedette e maledette mascherine. Tutto questo può alimentare e diffondere dei sentimenti di diffidenza e di egoismo. E quindi credo che invece dovremmo, invece di pensare a quello che i nostri politici possono fare, ci dobbiamo focalizzare su quello che possiamo fare tra di noi individualmente per superare questi stati d'animo negativi, credo. Eh, sì, tu hai perfettamente ragione. E questa direzione, secondo me, le pagine di Steinbeck ci possono essere utili. Utili, uso questo termine, utili più che insegnarci qualcosa, perché la parola insegnamento per quanto riguarda la letteratura, io avrei qualche perplessità ad usarla. Utili? Per certamente sì. Perché è vero che il romanzo di Steinbeck sembra parlarci di un mondo completamente diverso dal nostro, no? Che l'ambientazione del romanzo di Sala niente di meno che la depressione, la grande depressione degli anni 30 negli Stati Uniti. Però io sono convinto, non so se tu la pensi allo stesso modo, che la grande letteratura, quando è veramente grande, e questo è sicuramente il caso del romanzo di Steinbeck, è sempre in qualche modo contemporanea. Ci parla sempre di noi, ci parla sempre dell'oggi. E credo che, se lo sentiremo leggendo quelle pagine, che Steinbeck, eppure in una situazione storica così diversa da quella in cui ci troviamo, in realtà parlerà e tratterà e rappresenterà poeticamente le stesse grandi questioni umane e civili di cui hai parlato un attimo fa e che ci stanno così angustiando. E quindi, detto questo, proviamo a dire qualcosa di questo romanzo, entrare un po' in questo grande romanzo. Allora, Steinbeck scrisse questo romanzo nel 1939. I Stati Uniti erano allora usciti, proprio da poco, dalla grande depressione, grazie alla grande politica di Roosevelt, il famoso New Deal. E gli anni precedenti, quelli degli anni Trenta, erano stati veramente qualcosa di terribile, di spaventoso. Perché? Perché c'era stata la grande depressione economica, ma soprattutto c'era stato un impressionante sconvolgimento politico e sociale che si era materializzato visivamente in un fenomeno impressionante di emigrazione interna. Gran parte, moltissimi, milioni di persone spinti dalla fame, dalla disperazione, dalla siccità, tutto quello che accadeva nella parte est degli Stati Uniti, attraversarono gli Stati Uniti per legarsi verso la parte ovest, dirigendosi verso la California. E questo episodio così importante, così epocale nella storia americana, Steinbeck decide di raccontarlo in una prospettiva romanzesca, tutta particolare, incentrandolo nel microcosmo di una famiglia, la famiglia Jod. E questa famiglia Jod, appunto, che, tutta la disperazione, tempeste di sabbia terribili che a causa della siccità rendono invidibili l'atmosfera nelle città dell'est, a un certo punto vendono gli ultimi miserabili averi che hanno per racimolare dei soldi per affittare un camion sgancherato e con questo attraversare tutti gli Stati Uniti, no? Eh, sì, attraverso la famosa Route 66. Eh, che è famosissima, nei suoi Stati Uniti è una strada celebraica che sarà poi famosa anche durante il 68, durante la Big Generation, no? In qualche maniera è una strada significativa della storia degli Stati Uniti. E immagino che a quel tempo questa strada non fosse così popolata, no? Immagino che fosse, nella loro immaginazione, fosse una strada un po' infinita e che la California... E la California appare, davvero, no? In questo momento, proprio perché è così lontana e così sconosciuta, in fondo, per chi veniva dall'est, e appare veramente come una specie di terra promessa, no? Eh, sì, è una vera e propria terra promessa. C'è un'atmosfera biblica in tutti i romanzi. E in questo senso, poi ne parleremo anche man mano che leggeremo, questa atmosfera biblica, a continuare anche con il titolo del romanzo, vero? Sì, sì. Siamo diventati appunto di dire che in inglese questo romanzo di Steinbeck si chiama The Grapes of Wrath, che letteralmente vuol dire grappoli d'ira, o grappolo dell'odio, ed allude ad un passo dell'Apocalisse durante il quale l'angelo sterminatore taglia le vigne degli uomini. E nel 1940, quando questo romanzo fu tradotto in italiano, venne semplificato con il titolo Furore, forse pensando che ai lettori italiani l'allusione biblica forse non sarebbe stata molto comprensibile. E ancora oggi il romanzo è stampato in Italia con quel titolo lì, non c'è la corretta traduzione dell'originale in inglese. Quindi, allora, detto questo, proviamo a indicare perlomeno qualcuno dei personaggi principali del romanzo. Allora, questa famiglia Jod è composta dal papa, dalla mamma che a loro volta hanno due vecchi genitori, il nonna e la nonna, e cinque figli. Questi cinque figli di cui il più grande, Tom, il primo genito, è appena tornato dalla galera perché a causa di una rissa in cui aveva ucciso senza volerlo una persona, sta in libertà vigilata, diciamo così. E dopodiché c'è un altro ragazzo, che è il secondo genito, che è un bravo ragazzo che aveva la testa sulle spalle. Poi c'è una ragazza, che è Rosatea, la quale è sposata ed è incinta. Come vedremo, partirà proprio con il marito durante il viaggio. In più ci sono due bambini piccoli che appunto sono gli ultimi, diciamo così nati di questo matrimonio, come vedete, molto ricco di figli. Quindi, questi partono tutti quanti e, come dicevamo, si accingono in questo terribile viaggio. Durante questo viaggio, ovviamente, è spaventoso, lungo, pieno di incognite, c'è addirittura una attraversata del deserto e durante questo viaggio il nonno e la nonna, i due vecchi, che a stento sono stati portati via dalla terra, dalla quale non si volevano staccare, muoiono. Quando la famiglia arriva in California, invece, ha altro che terra promessa. Avranno una terribile delusione, perché appena arrivati qui, ci si rende conto che questi milioni di persone che si sono andati verso l'Occidente non trovano affatto la terra promessa, ma trovano tutta una serie di difficoltà, vengono sottopagati. È proprio la solita questione dell'immigrazione, che conosciamo, perché Steinbeck racconta in un modo che fa veramente pensare al centro di circostanze della nostra contemporaneità. Sono sottopagati, devono continuamente cambiare posto per trovare lavoro e in più si scatena tra questi gruppi di persone che cercano lavoro e soprattutto con la presenza sempre dei profittatori, del caporalato, che in qualche maniera li utilizza sempre a costi e a salari sempre più bassi, si scatenano delle risse, dei contrasti sociali e durante questi contrasti sociali avviene proprio che Tom, che dovrebbe stare in guardia perché naturalmente è sotto libertà vigilata, che ha già guadagnato una sua coscienza politica di ribellione nei confronti di questa situazione, a un certo punto è costretto, è coinvolto in una rissa ed è costretto ad abbandonare la famiglia. Quindi la famiglia rimane senza questo punto di appoggio fondamentale, la mamma in particolare è terrorizzata da pensare che fine farà il povero Tom e la situazione è precipita. La situazione è precipita perché a un certo punto arriva la stagione delle piogge e la famiglia Giorda è costretta insieme ad altri ad adunarsi in una serie di baracche. L'acqua arriva, sta per montare e mentre tutto in una condizione così drammatica, Rosadea, la ragazza incinta, il cui marito tra l'altro nel frattempo si è scappata via, poverina, è incinta e partorisce. Partorisce in questa condizione terribile e il bambino nasce morto. E' questo il punto in cui cominciano le pagine famose che fra un po' leggeremo. Sì. E prima di leggere le pagine di cui stai parlando, penso che sia interessante dire qualcosa sul film che John Ford trasse dal romanzo di Steinbeck, un anno proprio dopo, nel 1940, con lo stesso titolo originale del romanzo, Grapes or Wrath. Il film è, come immagino, sei d'accordo tu? E' un capolavoro. E' un film straordinario. E' forse il capolavoro di un grandissimo regista che è appunto John Ford. E incoraggiamo, se nessuno, se non hanno ancora visto i nostri, i nostri, le persone che ci stanno vedendo, a guardarlo su YouTube. Assolutamente. E' comunque passato un sacco di volte in televisione, quindi io penso che prima o dopo va però rivisto per intero e completamente. Sì. Ed è gratuitamente su YouTube. Quindi le persone che ci guardano. Perfetto. Però è interessante capire che Ford, per ragioni che poi capiremo, cambiò il finale eliminando la scena dell'inondazione di cui stavi parlando. Ford chiude il film immaginando che il coming della famiglia dell'Ijod si avvia con la speranza di trovare delle condizioni migliori dove stanno andando e Ford mette sulla bocca della mamma un messaggio di protesta ideologicamente molto forte. ma anche aperto poi alla speranza. Sì, il finale davvero ha una prospettiva ottimistica. Non dimentichiamo che John Ford in questo modo fa anche una sorta di omaggio al New Deal e al Rosalus Grecchiano che ideologicamente lui aveva sostenuto e approvato. E allora cerchiamo di vedere la fine di questo film. Ah, possiamo vedere quest'ultima scena. questo è il finale del film di John Ford. di John Ford come stiamo perdendo e nessuno ha scelto. Tu è la persona che ci ferma, mamma. Io non ne vedo più, non lo so. Sembra che ho spendo tutto il tempo, pensi come è uscita. Pensi a casa. Io non ne vedo più. Beh, Pa, una persona può cambiare meglio di una persona. Un uomo vive, in dirks. Bambi un giocatore, un uomo dies, e che è un giocatore. Gli un uomo, lo so, e che è un giocatore. Ma la persona è tutto in un sotto, come un stream. La leggi e le fbi, ma la la lazione si chiama, e il river è un giocatore. Ma la persona si guarda quella quella... Beh, magari. Sì, è vero, è quello che rende uscolti. Poi i ragazzi vengono e morano, e i loro bambini non sono bene e morano. Ma noi stiamo arrivando. Ci sono le persone che vivono. Ci non possono uscire, ci non possono uscire. Ci sono andati per sempre, perché ci sono le persone. Eccosi qua. Basterebbe vedere quella immagine finale contro luce con quel solo al trapotto per rendere conto che chi non avesse visto il film è della straordinaria ricchezza espressiva e figurativa di questo film. Ripeto, va assolutamente visto. Assolutamente. Ho dovuto però tradurre i sottotitoli perché questa ultima scena non è stata mai doppiata. Non è stata mai doppiata. Semplicemente perché nel 1952, quando il film arrivò in Italia, fu proprio tagliata dal film. E se pensiamo a quel periodo politicamente, sì, eravamo ancora nella prima legislatura repubblicana a maggioranza schiacciante della... No. Sì, certo. Ma però mi sembra un po' incredibile pensare che parole come queste che la mamma dice, i ricchi vivono e muoiono, ma noi continuiamo ad andare avanti, nessuno ci cancellerà. Mi sembra un po' improbabile che queste possano apparire così pericolosamente rivoluzionari a quel tempo, ma apparentemente era così, perché furono sapiate. Insomma, il Ford ha tagliato Steinbeck e noi in Italia invece abbiamo tagliato Ford. E va bene, che avviene sempre così. Però è molto più grave il taglio che abbiamo fatto noi, no? Che davvero, no? È incredibile, no? Che a distanza di tempo, no? Che sembra impossibile, no? Che quelle parole così in fondo profonde e universali potessero tornare rivoluzionari. Va bene, questa era l'Italia degli anni cinquanta. Non li piacciono, eh? D'accordo? Invece la cosa su cui vale la pena invece di ragionare è davvero come queste parole, davvero splendide, chiudono uno splendido film. Però, come abbiamo detto, il finale di Steinbeck è molto diverso. E sotto certi aspetti è molto più bello, è molto più profondo. E prima di arrivare a leggere le pagine che leggerai tu, rapidamente che cosa succede? Ricordo, c'è l'inondazione, Rosanea ha fatturito questo bimbo morto, l'acqua sta per arrivare a coprire tutta la baracca. A questo punto la mamma, che l'avete capito, no? È la vera capofamiglia, no? Si vede anche per su me ricordo, no? È la vera capofamiglia della famiglia Giord, prende l'iniziativa e spinge tutti gli altri a lasciare la baracca perché lei non vuole che questa ragazza, due, per questa ecco di condizione psicologica e fisica, si ammarie definitivamente. E allora i due entrano nell'acqua, cioè la famiglia entra nell'acqua e progressivamente le trasporta, tutti quanti arrivano all'asciutto, in un lembo di terra asciutta. A questo punto leggiamo la pagina che descrive questo momento. «Sullo stradone si fermarono per guardarsi alle spalle, osservando le masse scure dei vagoni rossi e i veicoli mezzo sormersi. E una pioggiarella riprese a cadere. «Andiamo», disse la mamma. «Rosatè, ti senti di camminare?» Mi gira la testa. Il babbo domandò in tono di rimostranza. «Adesso che siamo qui, dov'è che dobbiamo andare?» «Non so», rispose la mamma. «Su, dai il braccio a Rosatè». Lei stessa offrì alla figlia il braccio sinistro e il babbo il destro. «Si va dove è asciutto, per forza!» «Sarà due giorni che voi gli altri non vi togliete di dosso con gli abili bagnati!» Avanzarono lentamente con gli orecchi il rombo dell'acqua del torrente. Ruth e Winfield seguivano, divertendosi a guazzare nel fango. Il cielo si fece più scuro e la pioggia crebbe d'intensità. La strada era assolutamente deserta. «Dobbiamo sbrigarci», disse la mamma. «Se questa figliola si prende un malanno, chissà cosa succede!» «Non hai ancora detto dov'è che stiamo andando così di corsa?» osservò il babbo sarcastico. La strada seguiva la curva del torrente. La mamma perlostrava con gli occhi campi inondati. A qualche distanza, sulla sinistra, si intravedeva una stalla, col tetto lucido per la pioggia, che pareva alzarsi sopra un'ondulazione del terreno. «Eccola!» disse la mamma. «Scommetto che in quella stalla c'è asciutto. Possiamo fermarci lì, finché smette di piovere!» Il babbo emise un sospiro. «Hah, facile che ci scaccia il padrone!» Ruth scoprì d'un tratto, a pochi passi dinnanzi, sul bordo della strada, una macchiolina rossa. Vi si dilesse di corsa. Era un geranio, ricardatario, maltrattato dalla pioggia. Lo colse con amorevorezza, ne staccò un petalo e se lo appiccicò sul naso. Winfield accorse per vedere. «Me ne dai uno?» disse. «Niente affatto, è mio, l'ho trovato io!» E si appiccicò un altro petalo, un cuoricino scarlatto, nel mezzo della fronte. «E dai, Ruth, dammene uno anche a me, lo voglio!» insiste Winfield. E fece per strappare il fiore di mano a Ruth. Ma Ruth ritirò la mano e con l'altra gli tirò uno schiaffo. Winfield, lì per lì, rimase interdetto. Poi le labbra presero a tremarli e gli occhi a lucicare. Gli altri sopraggiunsero. «Che cosa avete fatto?» domandò la mamma. «È lui che voleva pigliarmi il geranio!» «Ne volevo solo uno per metterlo sul naso!» per il mio colore Winfield. «Dagliene uno!» Ruth ordinò alla mamma. «Ma è mio! Perché non se ne cerca un altro? Questo è mio!» «Ruth, dagliene uno!» Ruth sentì la minaccia nel tono della mamma e cambiò tattica. «Allora vieni qua, te lo metto io!» I grandi proseguirono. Winfield dedese il naso. Ruth inumidì un petalo con la lingua e glielo stampò brutalmente sul naso, dicendogli «schifosa carognetta!» Winfield si toccò il petalo sul naso guardandolo su con gli occhi srabici e tutte e due ripartirono per raggiungere i grandi. Un lampo ruppe il grigiore dell'aria immediatamente eseguito da uno scoppio di tuono. «Facciamo presto!» gridò la mamma. «Qui viene un diluvio! Tagliamo per i campi! Si fa prima! Coraggio! Coraggio! Rosatè!» La sollevarono per farle passare il fosso, la aiutarono a scavalcare la siepe e il diluvio li sorprese. Tenendosi chinati, gli avanzarono penosamente nel fango scivoloso. La pioggia era così fitta che non vedevano quasi più la salita e il vento era così forte che sentavano a camminare. Rosatè si faceva trascinare. «Puoi portarla?» disse la mamma al babbo. Il babbo si chinò e la sollevò, a fatica tra le braccia. «Svelti, bambini! Correte avanti!» Arrivarono fradici sotto la tettoia e si fermarono anzanti. Il babbo posò delicatamente rosatè a sedere su una cassetta. «Dio Onnipotente!» disse, guardandosi intorno. C'erano due o tre arnesi arrugginiti, un aratro, un elfrice, una ruota di ferro e nient'altro. La mamma disse «Forse c'è del fiano dentro, ecco, ecco qui la porta!» La spinse e la porta si aprì, stridendo sui cardini. «Sì, c'è fiano, credo! Entriamo!» Questa pagina, già meravigliosa, prepara le pagine ancora più intense che verranno subito dopo. Ed è veramente… chi non ha letto il romanzo può però da queste poche righe, secondo me, avere un'idea di quello che è il sistema narrativo, con le modalità narrative di Steinbeck. Perché davvero, da una parte, c'è tutta una descrizione perfino pittoresca, no? Di quelle che sono le dinamiche psicologiche di questa famiglia, no? Di cui tutti questi personaggi che hanno, tra l'altro, una vivezza straordinaria, anche i bambini, per esempio. che abbiamo visto. E quindi, da una parte, avete visto, avete sentito questo gioco di ruolo, no? Che c'è tra mamma e babbo, che si capisce, no? L'abbiamo già visto nel film, no? In realtà, il padre non è il vero della famiglia, è il vero nucleo della famiglia, la vera colonna portante che è naturalmente la mamma, la donna. E poi i bambini, che le baruffe erano bambini. E poi avete anche il personaggio di Rosalea che, malgrado quello che le è accaduto, ha avuto una sua dignità, un suo coraggio, una sua forma di eroismo. Bene, tutto questo mondo, questo microcosmo familiare, l'avete sentito però, di colpo, dentro il romanzo, dentro l'atmosfera del romanzo, assume un valore di universalità assolutamente impressionante. E credo che avete sentito anche qui come questo passaggio di nemmeno noi dalla cronaca a, come possiamo dire, alla storia, avviene attraverso proprio l'eco biblica, in qualche modo, no? In fondo, questa inondazione, questo vento, questa pioggia terribile, no? Che cos'è? È davvero una specie di tipo universale, no? Questo tipo universale di cui la famiglia Giord, questi derelitti che vengono scaraventati su questa spiaggetta, no? Sono in fondo gli ultimi, sono i più derelitti, sono i, potremmo dire, per usare quasi un'espressione di Giovanni Vecca, no? Sono una specie degli ultimi, no? Che vengono buttati dalla marea della storia, no? Che la trascina con sé. Ma questo è il punto. Loro sono gli ultimi. Sono dei derelitti, sono degli sventurati, ma fra un attimo lo vedremo. C'è qualcuno che è ancora più sventurato e derelitto di loro. E allora scopriremo come anche in queste condizioni spaventose i Giord, la famiglia Giord, può fare del bene, può essere misericordioso. E questa è la pagina che adesso ho già. Era completamente buio. Filtrava solo un po' di luce tra le connessure delle tavole e delle pareti. Sia di ti, Rosatè, sia di ti e riposati. Ora vedrò quello che si può fare per asciugarti. Winfield disse, mamma. E la pioggia, scrosciando sul tetto, coprì la sua voce. Ripetè, mamma! Cosa c'è? Che cosa vuoi? Oh, guarda! Nell'angolo! La mamma guardò e distinse due figure nella penombra. Un uomo sdraiato sulla schiena e accanto a lui un ragazzo seduto che guardava i nuovi venuti con occhi spalancati. Vedendosi scoperto, il ragazzo si alzò e venne incontro la mamma e con voce racqua le domandò, siete voi padroni? No, no, siamo venuti a ripararci dalla pioggia. Abbiamo una malata, potresti prestarci una coperta asciutta. Il ragazzo tornò nell'angolo e ne riportò una sudicia coperta che tese la mamma. Grazie, disse la mamma. E accennando con la testa l'uomo sdraiato, che cos'ha? Il ragazzo rispose... Che cos'ha? Il ragazzo rispose con una voce rauca priva di infezioni. Prima era malato, ma adesso muore di fame. Cosa? Muore di fame. Si è preso la febbre del cotone. Sono sei giorni che non mangia. La mamma si trasferì nell'angolo. L'uomo poteva avere una cinquantina d'anni. Aveva la faccia smonta, gli occhi spenti e fissi. La mamma domandò al ragazzo. È tuo babbo? Sì. Diceva che non aveva fame, oppure che aveva già mangiato. E il mangiare me lo dava a me. Adesso non ha più forza. Può appena muoversi. La pioggia diminuì di intensità. L'uomo mosse le labbra. E la mamma si chinò e avvicinò l'orecchio. E le labbra si mossero di nuovo. Certo, disse la mamma. Pensiamo noi. State tranquillo. Aspettate solo finché ho asciugato mia figlia. Tornò da Rosatea. Su, spogliati. E tene la coperta in modo da ripararla dalla vista. E quando Rosatea fu nuda, la coprì con la coperta sudicia. Il ragazzo venne di nuovo al fianco della mamma e spiegava. Io non sapevo. Lui diceva sempre che aveva già mangiato e che non aveva fame. Ieri sera sono andato fuori. Ho rotto una vetrina. Ho rubato del pane. Gli ho fatto mangiare, ma lui l'ha vomitato tutto. E dopo era più debole di prima. Bisognerebbe dargli del proto, del latte. Avete denaro per comprare un po' di latte? Zitto. Non ti preoccupare. In qualche modo si provvede. D'un tratto il ragazzo gridò. Ma muore! Vi dico, muore di fame! Zitto! Disse la mamma. Guardò il babbo e zio John che stavano in piedi vicino all'uomo malato, guardandolo con occhi impotenti. Poi guardò Rosatea, avviluppata nella coperta, e aspettò di incontrarne lo sguardo. Allora le due donne si lessero profondamente negli occhi e Rosatea prese a respirare in fretta e affannosamente. Poi disse... Sì. La mamma sorrise. Ero certa. Si guardò le mani, abbandonate nell'inghembro. Rosatea bisbigliò. Fai... Fai andare via tutti. E la mamma la rassicurò con il cenno del capo. Ora il suono della pioggia sul tetto era soltanto un fruscio. La mamma si sporsi in avanti, allontanò con la mano una ciocca di capelli della fronte della figlia e le detto un bacio. E poi si raddrizzò e ordinò... Andate fuori! Un momento, sotto la tettoia, voi altri, tutti! Ruth aprì la bocca per parlare e la mamma la zittì. Silenzio! Fuori! Li sospinse fuori anche il ragazzo. Ed uscì anch'essa, per ultima, chiudendosi alle spalle la porta cicolante. Per un minuto, Rosatea, cominciò a sedere nel silenzio frusciante del finire. Poi si alzò faticosamente in piedi, aggiustandosi la coperta attorno al corpo. Si diresse a passi lenti verso l'angolo e stette qualche secondo a contemplare la faccia smunta e gli occhi fissi, allucinati. Poi lentemente si sdraiò accanto a lui. L'uomo scosse lentamente la testa in segno di rifiuto. Rosatea sollevò un lembo della coperta e si denudò il petto. «Su! Su! Prendete!» disse. Li si fece più vicino e gli passò una mano sotto la testa. «Qui! Qui! Così!» Con la mano gli sosteneva la testa e le sue dita lo carezzavano delicatamente tra i capelli. Ella si guardava attorno e le sue labbra sorridevano misteriosamente. «Beh, insomma, io spero che la bellezza di questa pagina sia arrivata a chi ci sta ascoltando. Lo so che discutere di, diciamo così, di fare delle classifiche in letteratura è un po' ridicolo, anzi, un po' in senso. Io però sono convinto che questo sia in assoluto uno dei più bei finali di tutta la storia della letteratura. E spero che questo, chi l'ha ascoltato, sia riuscito a coglierlo. Anche se, devo dire, per cogliere interamente la bellezza di questa pagina bisogna aver letto un tiro pazzo. Perché? È perché bisogna aver sentito quello che è avvenuto prima. Bisogna aver compreso e percepito attraverso le sofferenze della famiglia Giode gli orrori che si hanno attraversato. È una vera e propria vocalisse, ancora una volta in senso biblico, la famiglia ha attraversato. Uno sconvolgimento totale di tutti i valori umani, di tutti i valori civili, dove l'egoismo, la solitudine, la violenza sembrano prendere il sopravvento. Ma proprio per questo, proprio perché siamo quasi ad una sorta di ritorno ad uno stato quasi selvaggio, dove appunto i valori umani sembrano cancellati, per questo è straordinario quello che accade dentro questo fenile. Perché nel buio di questo fenile, nel buio di questa umile stalla, che cosa c'è? C'è la sopravvivenza, c'è ancora l'accendersi della luce dell'umanità, della luce della pietà, della luce dei grandi valori dell'umanesimo, potremmo dire. Sono tre parolone in questo, non riconfesso, che hanno il rischio di suonare un po' retoriche queste parole. Però non sono retoriche, perché? Perché proprio il procedimento di Steinberg, l'avete sentito, è esattamente un procedimento antiretorico. Perché? Perché questa sopravvivenza di questo valore umanistico della misericordia viene espresso narrativamente attraverso la scena dell'allattamento, che è una scena incredibile, è una scena estrema, è una scena che infatti dovete apparire a John Ford quando dovete fare il film suo, dovete apparire scandaloso. Non se la sentì di girare negli anni 40 una scena di questo genere e invece, appunto, dicevo, Ford, Steinberg, riesce a farcela arrivare, a farcela arrivare con una forza poetica che è nello stesso momento violentemente, intensamente emotiva, ma anche di una straordinaria delicatezza. Potete sentire, per esempio, quello sguardo che le due donne si scambiano. In quel momento, fra loro, madre e figlia, passa qualcosa di sublime, no? E' una sorta di valore universale, di valore quasi arcaico, no? Che li mette in comunicazione. E quell'altro gesto, altrettanto meraviglioso, della mamma che solleva una ciocca dei capelli della figlia, perché comprende che la figlia in quel momento sta facendo un gesto meraviglioso. Questo gesto è un gesto in cui noi vediamo una quantità incredibile di cose, sono poche righe, ma dove veramente c'è di tutto. Perché da una parte Rosatea è una mamma, no? È una giovane mamma che ha perduto il proprio bambino e che in questo momento, in quell'uomo che sta allattando, allatta in qualche maniera il figlio morto. È proprio un figlio morto, il figlio che non ha potuto allattare. Ma nello stesso momento, ecco il valore universale. È vero o no che sembra una Madonna, no? È una Madonna, è una pietà. Una Madonna che tiene fra le braccia, proprio con quel gesto che tu ci hai descritto un attimo fa, un povero Cristo morente. Ma attenti però, eh? Non c'è nulla di religioso in senso oleografico. Perché? Perché è una Madonna, questa, una pietà tutta laica, tutta terrena. Perché? Proprio perché va a soddisfare un bisogno così elementare, così essenziale, come quello del dare del latte a questo povero Cristo bambino, in qualche maniera, no? Che tiene fra le braccia. E davvero, non ci sono dubbi, che la chiusura con le ultime righe sono qualche cosa di sublime, no? Perché l'Osatea ci invita, tutti noi, a guardare con speranza nell'uomo, no? Questa speranza compare in questo, in questa, no? Come dice, no? Simon, ella si guardava attorno e le sue labbra sorridevano misteriosamente. Il testo inglese non ce l'hai, vero? No, no. Il testo inglese non ce l'hai, tipo, sarebbe bello leggere nel testo originale, no? Quello che dice in questo momento Simon. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Questo sorriso misterioso, che però, appunto, è una speranza per un mondo migliore, che possa accompagnarci tutti in questi giorni così difficili. Sì, sì. Grazie del tuo contributo. Grazie a te, Bruno. E grazie a chi ci ha ascoltato. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie a tutti.